Musica 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 Sì Sì, non tu puoi andare a prendere questo? Non, non, non è così. Non, 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 non è così. Non, non è così. Non, non è così. Sì, sì. Sì, sì. Voi puoi andare con gli occhi, GioGio ha riparo la mia televisione con gli occhi, Eh bien, sai qui? Qu'è qui? Qu'è qui? Cosa? 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 Ah! Il ha riparato il mio ordinateur proprio con la posizione delle mani. Ma cosa che ci ha fatto? Cosa? 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 Il quadro tordo di Mamoto, Jojo mi ha redressato a mano nua con la force di torre. Non si è inventato? Cosa è scritto in questo caso. Cosa? Cosa è passato? Ma non metto fuori del magazzino funerario. Come, oh? Ti piace di aiutare tutta saliente triste con il tuo senso estetico? Una catastrofa. Dopo me diorno, c'era uno che ha fatto una nuova collezione di caccia di morti Allora, sono andati a trovarlo con un'uomo più bello su riso e ha già domandato Di per fare un regalo Perché io li va uso paguito di colorito Ai oh mona La strada tra i nostri paesi è di un gattio stato Cosa ne so, io un castellaccio non c'ho mai Andateci, vedrete di un bello paese Sai che a volte mi fai ridere Parlando serio, c'ho da fare qualcosa C'è più tuone che cadrami Che ci posso fare, io? Beh, vediamo lì o vediamo Ma qual è questa? Castellaccio o Caragudo? Caragudo, di Caragudo che tu pedo vuole Castellaccio è la ivace Allora, su, Torre Mi ne parlassimo di un tuo ritardo? Come? Siete perduto da un'ora? Oh, ma c'è questo Chi sa io avendo la bella cucina infoliti Dopo appello un amico in biscotto E poi dopo andare da un grassi guadio in fondo alla cittadilla, oh? Ma quantunque, aveva due tempi e ogni in fondo io arrivassero, no? Ma sicuro, ecco la pasolla Su un piastro si è cansato di tre minuti Davanti a una vetrina di un boulevard ben pettinato Sicuro, ma si è sempre su ventaccio Non è mica di un'ora spettinata Qua di un'ora tuttoressa, no? Ma ventaccio c'era anche un bel jojo, no? Ma io mi sono mica cansato di tre minuti Davanti a una vetrina, pettinati, eh? Cosa c'è? Ah, l'onda Qui con delle anerbate li crescono anche i capelli Servi la tuia, vai No, metti la tuia Ah, Mariline Bando Ah, il bon J'arrive pas a m'endormir, tu veux pas éteindre la lumière? Oui, deux minutes ma chérie Mais tu as qu'à compter les moutons, il parait que ça marche très bien Les moutons n'en a pas, moi je préfère mes chèvres Oui, mais tu peux compter aussi les chèvres, hein? D'ailleurs, tiens, allez, je vais t'aider, on va les compter ensemble Ah, c'est gentil Alors, Léana Ah, Léana, si joyeuse Davia Davia Davia, elle est fatiguée, il faut que je rasque là Chiara Chiara, elle fait pas beaucoup de lait, ça m'inquiète Antonia Antonia, là, le nez qui coule J'ai oublié d'appeler la vétérinaire Mais dis-moi, c'est comme ça que tu dois m'aider à m'endormir? Tu m'as stressée, je vais avec mes chèvres, tiens Mais... Menschen Ah... In ため ça vengeance ma il pauvre est dramatique Ces bou�ramADES Il pauvre d'aura dans la piomm sacrée Mais il pauvre foot pas mal dans la piå Il pauvre est reconnaît « Ahaha» Strosse ne rendait comme une campagne Oh, il pauvre estşallahe che hai le zampe davanti più corte. Non sono dei seggi, con più liciure nei specchietti. Oh, non c'è di parlare io con te dei cani. Beh, dici così perché hai il dottor azzai. Non c'è di dottor, tu non ci capisci nulla, dico come le donne, vedi? Ma non c'è di come tu, me. Come si muove a parlare di donne? Eh beh, ci diciamo come le donne, non abbiamo mica parlato di donne. Che tu non hai mica? Eh beh, io... Io, 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 io. E qua le libri ma un anno mi calista, non? Eh beh, non, sai che come ricordo? L'ampagno si è da una misa bella per l'orchestra e dopo il colpo è passato tutta un'ottata. E tanto è di dele, e va di essere distruti, non? Ti ho detto seguito, non? Ma non è doga cara. E non ti senti sentito assoluta. Ma ne ho detto che non è doga cara. Mi dice di che e che poi ti è? Oh, con un po' l'altro, la mia madre non ho mai invitata si trova male. E' vero, eh? E poi una principessa che mi aveva cara non sarebbe mai baiuto da una bella più come voi! Tanto è te lo sai. Tanto è te. Grazie a tutti.